Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Avere una versione aggiornata di Photoshop può far risparmiare ore di lavoro. Oggi vi voglio far vedere lo strumento rimuovi utilizzato per ritoccare i ritratti. Quante volte ti sei trovato con capelli che durante lo scatto sono sfuggiti al tuo occhio e ora devi togliere in Photoshop? Certo c'è la separazione delle frequenze, ma per chi non è pratico diventa molto complicato ritoccare una foto e ora ci viene in aiuto questo strumento che in poco tempo e senza grandi conoscenze ci permette di correggere le immagini. Guardate questa immagine dove ci sono tutti questi capelli che sono sfuggiti appunto all'occhio del fotografo, sono rimasti sul viso. Guardate, poi vi faccio vedere, in un attimo io li ho tolti senza separazione delle frequenze. Guardate questa immagine dove ci sono parecchie rughe, anzi c'erano perché adesso li ho tolte, guardate l'originale, vedete tutte queste rughine qui, queste qui, queste, queste qui, queste, guardate io cosa ho fatto, sempre con quello strumento lì, qui ho usato ad esempio l'opacità delle rughe al 100% ma in una situazione come questa ho potuto tenerlo un po' più basso tipo l'80 o anche meno, quindi non avrei tolto completamente le rughe ma le avrei comunque rese molto più leggere e questo con lo strumento rimuovi è possibile, guardate il prima e il dopo. Guardate invece questa foto, su questa sono andata a togliere il collare, l'ho tolto in un attimo e guardate come è rimasto pulito la correzione. Quando andrete avanti nel tutorial vedrete che questa è stata una cosa facilissima da fare. Ultima foto sempre di questo tutorial, guardate l'originale che era questo e guardate l'immagine finale, in questo caso ho usato lo strumento rimuovi, vi faccio vedere anche come usare il pennello correttivo al volo o lo strumento toppa ma comunque quello che funziona meglio in questo caso rimane sempre lo strumento rimuovi e in più ho usato il clone. Comunque vedete un'immagine di street scattata in India, guardate il prima e il dopo. Con questa immagine avremmo provato a usare la separazione delle frequenze. Ora invece vi faccio vedere che vado a rimuovere un po' queste rughe sulla fronte di questa bella signora, semplicemente con lo nuovo strumento rimuovi, perché lo strumento rimuovi fa anche questa cosa, col tasto destro del mouse e il tasto alt vado a ridurre la dimensione del pennello, vedete lo faccio un po' più piccolo, che lavori proprio solo sulla rughetta, poi cosa faccio? Creo un livello sopra al mio livello di sfondo, quindi lavorerò sul livello di sfondo, però devo essere sicura di avere qua campiona a tutti i livelli. E poi qui ho lasciato rimuovi dopo ogni tratto, perché così faccio un tratto e lui fa la correzione immediatamente. Vediamo un po'. Allora partiamo da questa rughetta qua, ecco che me l'ha tolta, togliamo anche questa qua sopra, togliamo anche questa. Qualcuno di voi potrà dire, ma anche lo strumento pennello correttivo al volo fa queste cose? Non proprio. Andiamo a vedere. Allora analizziamo gli strumenti che abbiamo qua. Strumento pennello correttivo al volo, che adesso anche in questo caso vado a ridurre di molto, è una cosa che non so se l'avete notata, sullo strumento pennello correttivo al volo posso modificare la durezza, mentre invece per lo strumento rimuovi è sempre al 100%. Se torniamo sullo strumento rimuovi, guardate, io se clicco alto e tasto destro vedete che ho l'opacità e ho il diametro, ma non ho la durezza. E l'opacità invece rimane fissa al 100%, perché avete visto che anche qua su non c'è l'opacità inserita, quindi per il momento non c'è niente del genere. Allora, torniamo allo strumento che ho preso prima, pennello correttivo al volo, vi faccio vedere ad esempio la rimozione, lo faccio ancora un po' più piccolo, ecco la rimozione di questa, ecco l'ha fatto, però se noi andiamo a vedere, avviciniamoci, vedete che qui l'immagine è sfoccata, mentre invece qui usando lo strumento rimuovi ha ricostruito la pelle, se io vado qua a fare questo lavoro qui, anche qui ho campiona su tutti i livelli, quindi io sto lavorando, sul livello sottostante, anche qui non è andato a creare bene la pelle, invece se vado sullo strumento rimuovi, lo riduco ancora un po', guardate, ecco vedete che ha ricreato la pelle, non mi ha lasciato una zona sfoccata come questa, ma ha ricreato la pelle, andiamo a fare anche questa cosa qui, poi possiamo togliere alcune di queste cose qua sulla pelle, qui sono degli artefatti, sicuramente chi ha fatto la correzione di questa immagine non è stato molto attento, vedete io sto lavorando abbastanza in fretta perché ogni pennellata mi toglie qualcosa, me lo riduce, poi abbiamo ancora, adesso non sto a togliervi tutte le rughe, ma ad esempio anche qua vedete ci sono delle rughe, vediamo che cosa succede qui, vedete che ricostruisce la pelle e lo fa anche in maniera molto ben fatta, vedete qui ad esempio mi ha creato una riga, contro Z, vediamo se c'è un altro modo perché non crei una specie di riga, così e così e così va già meglio, qua togliamo anche questa e togliamo anche questa e questa, vedete che la pelle è migliorata, poi posso andare a togliere questo, ma questo l'avrei tolto anche con lo strumento pennello correttivo al volo, però quello che io voglio dire è che questa cosa qui che io faccio su un altro livello non è definitiva, se io decido che questo livello qui è troppo forte, cioè ho tolto troppe rughe, perché non è un bene togliere tutte le rughe alle persone già di una certa età, se decido che non va bene posso semplicemente abbassare l'opacità, quindi avrà delle mini rughette, posso anche andare al 50%, non evidenti come erano prima, quindi questa è una cosa da imparare a fare perché ci evita ad esempio di utilizzare la separazione delle frequenze, vedete qui adesso ho abbassato, no ce l'ho sempre al 100%, vedete qui che ho tolto un'altra rughetta e ad esempio vado a togliere questa che è un pochettino più marcata, anche questa vedete, anche questa e adesso abbasso un po' l'opacità così le rughe ci sono, si vedono un pochettino ma non sono marcate, qui scompaiono e qui invece ritornano un po', andiamo verso il 50% e il lavoro risulta abbastanza equilibrato, non sono state tolte tutte le rughe, adesso io non ho fatto tutto il lavoro, però sono state tolte la maggior parte delle rughe e il lavoro è fatto bene. Una cosa da imparare invece, adesso creo un altro livello e lo metto sotto all'alto. Una cosa da vedere che è molto bella questa qui è quella dei capelli che fuoriescono e questa è una cosa che ad esempio con la separazione delle frequenze si fa benissimo ma si diventa un po' matti a farlo. Guardate cosa succede se io seguo questo capello e vado da una parte all'altra. Vedete il capello è sparito ma il viso è stato pulito, cioè quello che voglio dire io è questo. Andiamo a prendere questa ragazza qua che ha molti capelli sul viso quindi è molto più complicata toglierli, no? Ecco, andiamo a vedere qui sulla fronte. Vedete che qua c'è questo capello che ad esempio attraversa tutta la fronte. Se io aggiungo un livello, prendo il mio pennello e lascio la spunta qua su campione su tutti i livelli, adesso provo a togliere questo capello che parte da qua in mezzo. Vedete? Parte da qui, faccio questa parte qua. Guardate una particolarità, ha ricostruito i capelli che c'erano qua. Se io vado a togliere anche questo che fa la stessa cosa perché parte di là, ecco lui praticamente, adesso io li cerco di rimetterli in quadro, ecco l'intelligenza artificiale fa sì che lui vada un po' a ricostruire questi capelli. Supponiamo che io devo passare di qua e andare fino dall'altra. Ora vediamo se mi rovina le punte. Vedete che me le ha un po' lasciate perché lui ha capito che quella era un'altra cosa. Anche qui io ho questo capello. No, qui ho tirato male la riga. Ecco, però non ha lavorato male. Anche questo da qui lo vado a togliere fino là. Però vedete che questo qui è rimasto completamente completo. Se io invece vado a fare questo lavoro qui, ecco, vedete che qui però i capelli sono rimasti. Se io faccio questo, mi toglie quello da sopra ma gli altri rimangono. Quindi è molto utile questo strumento perché non ci fa perdere tanto tempo quando i capelli si incrociano con qualcos'altro. Guardate questo capello qui. Io lo prendo di qua, lo seguo e vado fino dentro gli occhi. Vedete che non ha... Beh, qui in realtà ha fatto un piccolo sgorbietto. Torniamo indietro e vediamo di farglielo più pulito. Allora, qui va fino lì e lo togliamo. Adesso proviamo a togliere questo capello che arriva da qui e attraversa le sopracciglie. E arriva lì. Vedete, le sopracciglie sono intatte. Possiamo perfino fare questa cosa qui e lui del sistema. E mentre invece il capello che parte di là è andato via. Proviamo a togliere anche questo che arriva fino lì perché non so come mai. E vedete che è andato a posto. Togliamo anche questo. Vedete che facendo questo lavoro, ad esempio passando in mezzo alle sopracciglie, lui ricostruisce quello che c'è intorno, ma lo fa in maniera intelligente. Perché se io facessi la stessa cosa con uno strumento un po' meno intelligente, come può essere lo strumento pennello correttivo al volo, e faccio una cosa di questo tipo, guardate, anche da qui, parto di qua, seguo questo capello e attraverso, arrivo fino a qui. Vedete che cosa è successo? Ma se io faccio la stessa cosa con lo strumento rimuovi, parto di qua, arrivo qui, seguo questo capello, poi seguo anche questi, attraverso e arrivo fino all'occhio. Toggo anche questi pezzetti qua. Ecco, vedete che anche in questo caso mi ha lasciato l'occhio così com'era, c'è questo pezzo in più che si può togliere, però ha ricostruito bene quello che c'era. Adesso io potrei anche ricostruire questo bordo qui in questo modo. Cioè facendo capire l'intelligenza artificiale, vedete che questa è una linea unica. Questo lo tolgo. Se l'intelligenza artificiale capisce cosa sto facendo, funziona bene, non mi dà problemi. Quindi io trovo che è molto utile questo modo di pulire le immagini, molto veloce. Vedete qua mi ha addirittura ricostruito dei capelli in modo da continuare le cose. Qua ad esempio c'è un pezzo che si può anche togliere. Bisogna stare molto attenti, io adesso non uso una tavoletta grafica, sto lavorando col mouse e quindi è più complicato, si possono succedere queste cose. Però adesso parto di qui e tolgo questi capelli qua. Vedete che lui continua a ricostruire le sopracciglie, qui però mi ha creato dei capelli che preferisco non avere. e qui posso ancora andare a togliere questo pezzetto qui. Ecco, vi faccio vedere l'immagine precedente. Ecco, vedete quante cose ho tolto abbastanza velocemente. Poi diciamo anche che posso togliere ad esempio questo, che da qui va a finire qui. tolgo questo, che li attraversa. Però vedete che lui continua a ricostruire i capelli che ci sono lì. Tolgo questo, che fa tutto il giro, che finisce qua. E tolgo anche questo, che fa questo lavoro qui, che finisce vicino all'occhio. Cioè praticamente è tutto questo lavoro, che con gli altri strumenti diventa molto complicato, a meno che di usare la separazione delle frequenze, ma anche in quel caso è una cosa abbastanza complicata. In questo caso si pulisce in un attimo. Tolgo ancora questo. Vedete, anche qui ha ricostruito la parte che... Tolgo questo. E tolgo questo. I capelli purtroppo sono una cosa che succede abbastanza spesso quando si scatta. Adesso qui la foto non è mia, io l'ho presa da Pexel e sicuramente i capelli negli occhi erano voluti. Però molto spesso capita che uno finisce di fare lo scatto, e non si accorge che certi peluzzi come questo finiscono sul volto. Ecco, vedete, è stato tutto pulito. Potrei continuare all'infinito, ma non voglio tediarvi troppo. Voglio farvi invece vedere un'altra cosa importante, che è quella dell'andare a togliere, ad esempio, una collanina, perché magari la modella si è tenuta una collanina al collo, o teneva l'orologio, e farlo in passato era abbastanza complicato. Con pennello correttivo al volo non se ne parlava neanche, perché faceva questo lavoro qui. Adesso ve lo faccio vedere. Ecco, vedete, faceva questo lavoro qua. Qui andava a fare un altro lavoro simile, e quindi non era possibile fare una roba del genere così. Vedete? Quindi, CTRL Z, CTRL Z. Invece, se io vado a fare lo stesso lavoro, ma con lo strumento rimuovi, guardate che cosa succede. Adesso lo ingrandisco un po', perché prenda subito Alt premuto, tasto destro del mouse, ingrandisco perché il pennello prenda subito tutta la collanina. Vedete? Ecco, vedete, qui ha rifatto addirittura l'ombra, questo in più, ma glielo andiamo a togliere, poi al limite lo togliamo, vedete che è sparito, poi ingrandisco l'immagine, e vado a togliere anche quel pezzetto lì. Vedete, io sono posizionata anche sul volto della ragazza, ma se io faccio questo lavoro qui, l'intelligenza artificiale capisce che io voglio solo togliere quello, guardate, il volto della ragazza è rimasto intatto, il collo è rimasto intatto, e io ho tolto quella collanina lì in un attimo. Ora vado ancora a togliere, magari riduco, ma no, vado ancora a togliere questo pezzetto qui sotto il dito della mano. Ecco, vedete che posso, se non voglio che faccia tutta quell'ombra, posso andare a togliere, vedete che lavoro che ho fatto, e qui posso fare così, in modo che quell'ombra continui e sia più naturale. Guardate, guardate un prima e un dopo. Vedete come è stato eliminato quel cerchio al collo, che era abbastanza antipatico, a parte che anche qui, anche questa foto l'ho presa da Pexels, di Pizza Bay, mentre quella di prima era di Rodrigo Giubram, questa qua, e poi l'ultima cosa che vi voglio far vedere, è una cosa abbastanza importante, guardate questa immagine, io sono partita da questa immagine qui, e sono arrivata a questa immagine. Non vi rascondo che non ho usato soltanto lo strumento Rimuovi, però la maggior parte l'ho fatta proprio con quello. Come ho fatto? Allora, come al solito, un livello aggiunto, strumento Rimuovi, dimensione grande, perché devo andare a rimuovere prima lo specchio della moto, qui dimensione un po' più piccola, quindi riduco, sposto il mouse, tasto destro del mouse, e mi sposto, questa la vado a togliere anche, e poi tolgo anche l'ultimo pezzetto, che è questo. Allora, voi direte, ma si faceva anche prima. Sì, è vero, si faceva anche prima, allora supponiamo che invece questa volta aggiungo un livello, e vado a usare invece lo strumento pennello correttivo al volo, lo ingrandisco in questo caso, perché sia grande, deve essere molto grande, perché voglio andare a cancellare, vedete, il pennello correttivo al volo è colore nero, mentre il pennello, lo strumento rimuovi, ha il colore fucsia. Ecco, qui, vedete, che non me l'ha rimosso bene, allora rifacciamo il lavoro, non è così facile, rifacciamo il lavoro, ma intanto stiamo mattendo. Vedete, non fa il lavoro bene, come l'aveva fatto, l'altro strumento, qui, e poi, va bene, togliamo anche questo, togliamo anche questo, però, vedete, ci vuole molto tempo, mentre prima l'avevo fatto in un attimo. Altra cosa che voglio andare a fare, ad esempio, andare a togliere queste linee qui, io parto da qui, e mi sposto, qua. Allora, aspettiamo un attimo, che faccia il lavoro, e mi ha fatto un piccolo bozzo lì sopra, guardate, c'è un piccolo bozzo, qua, perché in realtà, se noi andiamo a vedere quella zona lì, vedete che qui è dritto, e qua c'è un piccolo bozzo. Se poi, vado a togliere questa linea qua, qui non ha fatto male, e qua, vediamo che qui lavora abbastanza bene, però, i segni si vedono ancora. Andiamo a vedere che cosa succede, se invece vado ad usare lo strumento rimuovi. Allora, con lo strumento rimuovi, vado anche qua, a prendermi lo strumento rimuovi, mi posiziono sul livello giusto, avete visto che, essendo su un livello vuoto, cioè un livello non evidenziato, non mi lasciava lavorare, devo trovarmi sul livello giusto, non posso stare sul livello sfondo, ma devo stare sul livello, che ho creato prima. Allora, qui vado a fare la stessa cosa, da qui vado a togliere, e vediamo se anche qua mi crea un piccolo bozzo. Perché qui stiamo lavorando con l'intelligenza artificiale. No, non l'ha fatto, vedete che, se andiamo a vedere, vabbè, ha creato un pezzetto bianco uguale a quello, perché ha interpretato più che altro, però non dà fastidio. Qui andiamo a togliere, togliamo anche qua, togliamo anche questo, e poi andiamo a togliere, ecco, qui parto di nuovo dall'arancione, quindi lo inserisco anche nella mia pennellata, togliamo anche questo, ecco, vedete come ha pulito tutto, in maniera molto molto bella, perché diciamo che questa parete adesso è veramente tutta di un unico colore. Adesso andiamo a lavorare invece sulle parti dietro, anche qui volevo farvi vedere che c'è differenza tra rimuovere alcune parti con questo strumento, se io uso questo per togliere questa linea qua, me la toglie in un attimo, e ricostruisce questa parte qui. Quindi, vedete, lui ha lasciato la riga dritta intatta. Se vado più in giù, faccio la stessa cosa, vado a togliere questa qui, mi fermo dove inizia il vestito della signora, e vedrete che il vestito continuerà, vedete, non l'ha toccato minimamente, quindi un lavoro molto ben fatto. Adesso andiamo a togliere il resto di questa parte qui, io faccio la prima parte, tutte insieme, e poi l'ultimo pezzetto lo faccio dopo, perché così lui capisce che qua non c'è più nulla, e quindi anche qui deve continuare togliendo tutto. Allora andiamo a fare questo lavoro qui, non faccio, cerco di stare vicino al vestito, ma non ci vado sopra, perché tanto non è un problema. Ecco, vedete che mi ha tolto tutto. Poi qua ovviamente ha ricostruito questa zona chiara, che è una parete diversa che c'è lì dietro. Io posso andare avanti a togliere, ad esempio se tolgo questo, faccio così, vedete che vado a toccare il velo della donna, ma in realtà il velo non viene toccato, qui praticamente. Andiamo facciandolo ancora una volta per fargli capire che vogliamo che lo renda bianco. Vedete che ho lavorato piuttosto bene, adesso vi devo dire che per fare l'ultimo lavoro preferisco usare un sistema un po' diverso. Allora ingrandisco, contro zero, porto l'immagine al schermo pieno, utilizzo qua la barra delle attività, seleziona soggetto. No, vedete che cosa è successo? Perché questo? Perché io sono sul livello 2 e il livello 2 contiene solo delle correzioni. Allora, contro il D di selezione, vi faccio vedere che questo, tengo premuto il tasto Alt, questo è il livello 2, vedete? Mentre quello che io voglio selezionare il soggetto è il livello sfondo, quindi vado su seleziona soggetto, ma tenendo il mio livello sfondo attivo e poi vado a invertire. Vedete? Inverti la selezione, clicco su inverti e così mi ritrovo a lavorare solo sul fondale. A questo punto cosa faccio? Vado sempre su un livello soprastante, mi metto sopra tutti gli altri, lo metto sopra, vado a prendere con il timbro clone quello che c'è da un lato e lo porto dall'altra. Vado a prendermi un pennello, in questo caso abbastanza grande e guardate, molto morbido, praticamente duro soltanto a zero e ha un'opacità, che la vedete qua sopra inserita, all'82%, è un flusso anche abbastanza basso. Alt, tasto sinistro del mouse, campiono e poi cosa faccio? Vado a portare qui quello che c'è di là. Vedete? Sto portando, però ho un piccolo problema, sto lavorando direttamente sull'immagine, non va bene, quindi CTRL Z, controllo, torno indietro nella storia, ecco, mi posiziono sul livello 4 e a questo punto, qua ho, attuale e sotto, oppure tutti, posso anche scegliere tutti, tasto alt, tasto sinistro del mouse, clic, e vado a fare questo lavoro qua. Vedete? Sto portando in questa zona, attenzione a non esagerare, perché ho portato anche lei, quindi ritorno a campionare qui e vado a togliere questa parte qua, vedete? Poi torno a campionare qua e vado, qui devo stare attenta, vedete questo segno qua, l'ho fatto perché sono partita dall'angolo, CTRL Z, campioniamo qui, non sull'angolo, e riportiamo questa parte qui, vedete? Poi se voglio, ad esempio da qua, mi posiziono qui e vado a riempire tutte queste zone qua. Devo stare attenta sempre a non fare linee dritte, perché le linee dritte? Perché di qua, se io pennello di qua, guardate, sono qui, se voi guardate sulla destra, vedete il punto da cui sto campionando e quindi, andando in là, creo una riga, quindi mi devo posizionare una zona pulita e rimettere a posto questa zona qua. Quindi bisogna sempre stare un po' attenti, il timbro clone è un timbro molto utile, ma bisogna saperlo usare, questo sempre. Adesso praticamente, mi posiziono qua in alto e faccio una cosa di questo tipo. Vedete? Poi mi riposiziono qua in alto e faccio una cosa di questo tipo. Vedete che a questo punto, io cosa ho fatto? CTRL D, deseleziono, ho lavorato tutto sullo sfondo senza intaccare mai la ragazza che si trovava al centro. Vedete qua, ho fatto un pasticcetto, lo vado a mettere a posto. Ecco, la ragazza che si trovava al centro e vedete che ho uniformato completamente, anche qui, vedo che c'è ancora un altro pasticcetto, uniformato completamente lo sfondo dietro di lei. Sono partita da questa immagine e sono arrivata a questa, molto più pulita. Poi, è ovvio che questa è un'immagine scattata per strada, quindi, non la motoretta davanti, ma le parti qua dietro della casa sfocate, ci stavano benissimo. Ma per far vedere a voi l'esercizio, io sono andata a togliere tutto. Quindi, importante è questo. Allora, direi che vi ho fatto vedere un po' tutto, quindi provate a usare lo strumento Rimuovi, utilizzatelo tutte le volte che avete bisogno di togliere qualcosa che dà fastidio, provate, perché, secondo me, tra tutta la serie di strumenti che ci sono qua, pennello correttivo al volo, pennello correttivo, la toppa, che sono quelli che io, finora, ho sempre usato per fare tante correzioni, direi che lo strumento Rimuovi li batte tutti, perché, come ho detto, usa l'intelligenza artificiale, perché togliere una riga che va da qui a qui, se io lo facessi con lo strumento pennello correttivo al volo, qua rimane una sfocatura rossa. Invece, con lo strumento Rimuovi, avete visto che lui lascia intatta la parte di un altro colore, cioè si ferma, l'unica cosa che ha fatto è stato qui che ha ricostruito una riga uguale a quella, però l'ha fatto perché con l'intelligenza artificiale ha pensato che questo tessuto avesse queste righe e devo dire che forse non è neanche sbagliato pensare quello. Con questa immagine io chiudo il mio tutorial, se non siete ancora iscritti al mio canale vi chiedo di iscrivervi, se avete dei commenti fateli, a me fa sempre piacere, ringrazio coloro che mi hanno lasciato dei super grazie nei tutorial precedenti, anche quelli fanno sempre piacere e ci vediamo al prossimo tutorial.